San Francisco, una città affascinante che stupisce con le sue meraviglie, ma anche con le sue contraddizioni. Un tempo simbolo di benessere e progresso, oggi si trova a fronteggiare problemi crescenti come la criminalità e la crisi abitativa. Gli abitanti stanno abbandonando la città, mentre i senza tetto occupano i marciapiedi e le dipendenze peggiorano, contribuendo a un senso di caos sempre più palpabile. Eppure, in mezzo a questa disperazione, continuano a emergere storie sorprendenti. Un'anziana di 105 anni suona il pianoforte con naturalezza, mentre un frutto gigante diventa un originale recipiente per gli spaghetti. San Francisco rimane un luogo di forti contrasti, dove il meraviglioso si affianca allo sconvolgente. In questo video esploriamo le realtà insolite, meravigliose e scioccanti di San Francisco, una metropoli che mescola lusso e miseria in un modo disturbante. Famosa per i suoi simboli iconici come il Golden Gate Bridge e i caratteristici tram che affrontano ripide colline, la città ospita anche giganti tecnologici come Twitter. Tuttavia, sotto questa superficie brillante, si nasconde una verità più oscura che sta prendendo sempre più piede, sorprendendo chiunque la osservi da vicino. Passeggiando per le strade di San Francisco, soprattutto in quartieri come il Tenderloin, si percepisce un cambiamento allarmante. La crisi dei senza tetto è evidente. Quasi un terzo dei senza tetto degli Stati Uniti risiede in California e San Francisco è al centro di questa emergenza, seconda solo a Los Angeles. Lunghe file di tende e rifugi improvvisati si estendono sotto l'ombra di grattacieli lussuosi, simbolo di un crescente divario sociale. Mentre i negozi subiscono perdite economiche significative a causa dei furti, l'uso di droghe in pubblico è ormai una vista comune. Un commerciante locale osserva amaramente come la città sembri aver abbandonato i suoi cittadini. Il boom tecnologico di San Francisco ha generato miliardari, ma ha lasciato indietro molti. Gli affitti esorbitanti e le crescenti disuguaglianze dipingono un quadro desolante di una città un tempo celebrata come una terra di opportunità. Come pensi che si evolverà questa situazione? Discutiamo insieme queste sfide, che gravano sulla città mentre il mondo osserva in cerca di soluzioni. San Francisco oggi presenta un volto inquietante, una dimensione oscura che infesta le sue strade e mette a disagio turisti e residenti. L'immagine di un individuo incappucciato che rompe il vetro di un'auto in pieno giorno, ruba uno zaino e lo getta in una macchina di lusso in attesa, è diventata parte della quotidianità. Questo accade più di 60 volte al giorno per un totale di oltre 2000 furti d'auto al mese. Come è possibile che una delle città più ricche del mondo sia diventata un paradiso per i criminali? La risposta potrebbe trovarsi in una decisione presa nel 2014 con la Proposition 47, una legge pensata per ridurre il sovraffollamento delle carceri, che ha declassato i furti sotto i 950 dollari a reati minori. Sebbene benintenzionata, questa legge ha inavvertitamente dato il via a una crescita della microcriminalità, alimentando una rete di furti organizzati che avvengono alla luce del sole. Alcuni residenti, ormai rassegnati, non si preoccupano nemmeno di chiudere le proprie auto, lasciando i portabagagli aperti per dimostrare che non c'è nulla da rubare. Nei supermercati di lusso, oggetti comuni come il dentifricio sono bloccati dietro vetrine, e i clienti devono chiedere assistenza per acquisti semplici. Nelle boutique di fascia alta, le porte restano chiuse durante l'orario di apertura, consentendo l'ingresso solo a un cliente alla volta. I commercianti sono esasperati, chiamano la polizia, ma spesso non arriva nessuno. Quando finalmente le autorità intervengono, possono passare ore. Anche quando si arrestano i colpevoli, le conseguenze sono così lievi da non costituire un vero deterrente. I turisti, un tempo attratti dalla magnificenza di San Francisco, si trovano di fronte a una realtà molto più cupa. I blog di viaggio dipingono il ritratto di una città in profonda contraddizione, un luogo dove l'opulenza e l'illegalità convivono fianco a fianco. Come si è arrivati a questo punto? Come ha fatto una città nota per il suo fascino e la sua prosperità a trasformarsi in un teatro aperto per i ladri? Le strade di San Francisco, oltre ad accogliere turisti e pionieri tecnologici, sono ora popolate anche da figure inquietanti, ladri instancabili e zombie moderni che sembrano rappresentare il declino della città. Mentre la metropoli, un tempo illustre, cerca di ritrovare la propria strada, la soluzione alla crisi appare sempre più lontana e sfuggente. Questi zombie sono solo una parte del problema, le strade della città nascondono segreti ancora più cupi che non possiamo ignorare prima di agire. Vorrei fare un rapido appello a chi mi ascolta, se avete modo di supportare questo canale, cliccate sulla campanella per le notifiche e sul tasto iscriviti. Ogni vostro contributo aiuterà a migliorare questo show e offrirvi contenuti di qualità, ma la storia non finisce qui. Più mi addentravo nelle vie della città, più tutto sembrava trasformarsi. I marciapiedi, come corde tese, erano invasi da rifiuti e persone che sembravano sopravvivere ai margini della società. Molti devastati dalla dipendenza giacevano sparsi ovunque. In ogni direzione si notavano individui che consumavano liberamente droghe, i loro occhi vuoti persi nel nulla. San Francisco, una volta vibrante e piena di vita, appariva ora come un luogo misteriosamente assediato, abitato da ombre che vagavano senza meta. Nel cuore del distretto di Tenderloin, un tempo vivace e pieno di attività, regna oggi il degrado. Barbara R., una residente storica, racconta di incendi che scoppiano sui marciapiedi, con fumo che invade gli edifici e allarmi che costringono la gente a fuggire nelle strade. La situazione è diventata insostenibile, tanto che molti stanno lasciando la città, non per i costi della vita, ma perché i loro quartieri, un tempo fiorenti, sono diventati incubi. Anche le imprese ne soffrono, i clienti hanno paura di entrare, intimoriti dal crimine che serpeggia fuori dalle loro porte. Ho raccolto decine di foto che testimoniano la realtà. Persone sdraiate sui marciapiedi, crimini che avvengono proprio sotto le finestre delle abitazioni. Quanto tempo dovranno ancora aspettare prima che qualcosa cambi? Mentre camminavo per queste strade, mi domandavo quale sarà il futuro per coloro che ancora nutrono speranza in una città apparentemente intrappolata tra dipendenza e caos. Tuttavia, ciò che vediamo è solo una parte di una crisi più grande, quella dei senza tetto, che ha invaso interi quartieri. Immaginate di passeggiare lungo Market Street, una volta simbolo della prosperità economica di San Francisco. Le facciate pulite degli edifici riflettono ancora il cielo, ma più di inoltri più il panorama cambia. I marciapiedi si riempiono di persone che cercano rifugio in ripari improvvisati, mentre il frenetico ritmo urbano sembra sempre più lontano. Il dolce scampanellio di una tramvia, un eco del fascino passato della città, viene soffocato dalla visione di una crisi crescente. La crisi dei senza tetto a San Francisco ha raggiunto livelli preoccupanti. La città, situata in uno stato che ospita circa un terzo della popolazione senza dimora degli Stati Uniti, si trova a confrontare l'immagine dei suoi scintillanti grattacieli con la realtà di migliaia di persone costrette a lottare ogni giorno per la sopravvivenza. Alla base di questo contrasto c'è l'aumento vertiginoso del costo della vita. Acquistare una casa a San Francisco richiede circa 1,4 milioni di dollari, mentre l'affitto di un appartamento in centro può superare i 33 mila dollari all'anno. Per molti queste cifre rappresentano un traguardo irraggiungibile. Tuttavia, il problema non riguarda solo l'aspetto economico. La città è invasa da persone che un tempo conducevano una vita simile a quella di molti altri cittadini. David, un ex elettricista, ne è un esempio. La sua vita è stata stravolta dai continui aumenti degli affitti, che lo hanno portato a vivere per strada. Non avrei mai immaginato di trovarmi in questa situazione, dice, ritrovandosi tra quelli che sono scivolati nelle crepe del sistema. A San Francisco un errore può cambiare tutto. Molti preferiscono rimanere in strada, piuttosto che cercare rifugio nei centri di accoglienza, dove l'uso di sostanze stupefacenti è vietato. Di fronte alla scelta tra dipendenza e sobrietà, molti scelgono la prima, preferendo la sopravvivenza immediata alla sicurezza a lungo termine. Anche se le organizzazioni benefiche offrono aiuti nei fine settimana, distribuendo cibo e beni essenziali, spesso consegnano anche siringhe, sollevando la domanda se questi interventi stiano aiutando o perpetuando la dipendenza. Gli animali domestici sono diventati gli ultimi compagni fedeli per molte persone che condividono questa dura battaglia. Tuttavia, con un sussidio statale di appena 700 dollari al mese, è impossibile pagare affitti che superano i 3.000 dollari. Il boom tecnologico ha arricchito alcuni oltre ogni immaginazione, mentre ha spinto molti altri sempre più in fondo alla povertà. Come ha fatto San Francisco, simbolo di progresso, a trovarsi di fronte a una tale disuguaglianza estrema? Oltre all'aumento del costo della vita, c'è un altro fattore devastante che alimenta questa crisi. Camminando per il centro città, è evidente che il problema non è isolato. La situazione di San Francisco rappresenta solo una parte di una crisi più ampia che attraversa l'intero paese. Ricordo di essermi fermato vicino al traghetto, osservando lo skyline scintillante alle mie spalle. I grattacieli imponenti che ospitano le più grandi aziende tecnologiche del mondo proiettano lunghe ombre sulle strade sottostanti, dove le persone devastate dalla dipendenza vagano senza una meta. La città sta cercando di affrontare la crisi, discutendo di espandere i centri di trattamento, aumentare la presenza della polizia e trovare soluzioni per i senza tetto. Ma mentre questi piani vengono discursi, l'epidemia sociale continua ad avanzare e San Francisco fatica a tenere il passo. La domanda rimane, è possibile che questi due estremi possano coesistere? San Francisco, una volta all'avanguardia nell'innovazione, riuscirà a trovare una soluzione a questa crisi crescente o collasserà sotto il suo stesso peso? Ora, passando a una nota più leggera, tra le nebbie di San Francisco si nasconde una curiosità. Un uomo che possiede una collezione unica ha guadagnato fama grazie a una foto che ha fatto il giro del web. Le fragole trasformate in ciotole per spaghetti istantanei hanno catturato l'attenzione di molti. Ogni lunedì svela nuove creazioni di fragole modellate in forme di animali, dalle tigri alle volpi, grazie al talento artistico della moglie. Questo bizzarro hobby ha reso l'uomo una celebrità locale, con la sua barba lunga e incolta che non taglia da oltre 15 anni, tanto da guadagnarsi un posto in Replace Believe It or Not. Infine, ci sono storie che trascendono le difficoltà della città, come quella di Maria, una donna che sembrava aver scoperto il segreto della longevità. Nata nel 1907, Maria ha vissuto tutta la sua vita a San Francisco e, quando è morta nel gennaio del 2023 all'età di 117 anni, era la persona più anziana vivente al mondo. Ma la cosa più straordinaria non era la sua età, bensì il modo in cui il suo corpo sembrava sfidare il tempo. Le sue cellule invecchiavano più lentamente del previsto, lasciando gli scienziati con più domande che risposte. Qual era il suo segreto? Sara, una donna dall'energia sorprendente, anche dopo decenni, incarnava una vita di disciplina e serenità. Seguiva una rigorosa routine quotidiana che comprendeva yoga mattutino, la preparazione casalinga di Kefir e lunghe ore trascorse immersa nella tranquillità dei suoi giardini. Tuttavia, il suo vero segreto risiedeva nella pace interiore e nel controllo impeccabile delle sue emozioni, che la mantenevano elevata, immune dalle negatività circostanti. Questo equilibrio, che coltivava anche nelle relazioni, la guidava in un mondo pieno di turbolenze. A 105 anni, Sara continuava a suonare il pianoforte e a leggere i giornali, mantenendo uno stile di vita che molti avrebbero invidiato, in netto contrasto con la frenesia e la durezza di New York. La vita di Sara era un emblema di armonia e serenità, sollevando una domanda. Erano forse le sue abitudini quotidiane il segreto della sua lunga vita? Il suo esempio invita a scoprire la pace nella natura, nelle relazioni e nei momenti di contemplazione. E chissà, forse il prossimo a battere il suo record di longevità è già tra noi, vivendo i suoi giorni in serenità, inconsapevole dell'eredità che potrebbe raccogliere. Mentre la città affronta le sue sfide, la ricerca del prossimo centenario continua. Nel frattempo, New York rimane un luogo di contrasti, dove l'opulenza e l'isolamento dei più ricchi si mescolano con le difficoltà quotidiane dei meno fortunati. In cima alle Twin Peaks, i magnati della tecnologia e i potenti dell'industria vivono in sontuose residenze, lontani dai disordini urbani. Questi palazzi, incredibilmente vasti e costosi, simboleggiano il divario sempre crescente tra le classi sociali. Nel 2014, William Getty, erede del magnate del petrolio, vendette la sua casa di quasi 800 metri quadrati per la cifra sbalorditiva di 15,9 milioni di dollari, mentre nel 2015 una villa di 500 metri quadrati fu venduta per un record di 31 milioni. Passeggiare per le strade silenziose e impeccabili di queste aree esclusive, fa comprendere perché i ricchi siano attratti da questi luoghi. L'aria sembra più pura e i rumori della città spariscono, creando un senso di pace e isolamento. Tuttavia, questa distanza fisica si riflette anche in una separazione sociale ed economica, che lascia New York frammentata. Un tempo simbolo di progresso e coesione, la città si trova ora di fronte a una crescente disuguaglianza. Potrà mai riconquistare l'unità o il divario tra i suoi cittadini continuerà ad aumentare? New York è sempre stata una città resiliente, capace di reinventarsi. Dalla lotta per i diritti LGBT nel quartiere di Castro agli sforzi per la sostenibilità ambientale, la città ha sempre affrontato le sue battaglie a testa alta. Ma oggi nuove sfide incombono, la crisi dei senza tetto e la criminalità, è lesto alla peta o. Il modello di Housing First offre una speranza, ma il futuro è incerto. La domanda è se lo spirito indomito di New York sarà sufficiente per affrontare queste sfide. Nonostante tutto, la città è ancora costellata di icone che raccontano storie di resilienza e bellezza. L'Empire State Building, eretto alla fine degli anni 30, continua a svettare maestoso verso il cielo, collegando New York alla contea di Kings. Allo stesso modo, la piramide transamerica, con la sua forma inconfondibile, è un simbolo dell'innovazione architettonica della città. Tuttavia, sotto questi imponenti edifici, le strade raccontano una storia diversa. Central Park, un'oasi di pace in mezzo alla frenesia urbana, offre momenti di riflessione in una città che non dimentica mai le sue cicatrici. All'interno dei suoi confini si trovano monumenti che riflettono la storia e la cultura della città, come il New York Comfort Women Memorial. Ma mentre si esplora questa meraviglia naturale, il contrasto tra la bellezza di questi luoghi e le sfide attuali diventa evidente. Se ti è piaciuto questo contenuto, non dimenticare di lasciare un mi piace e di iscriverti al canale Viaggi Senza Confini. Il tuo supporto è importante per noi. Lascia un commento qui sotto su quale paese vorresti vedere in primo piano nel nostro prossimo video. Grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima avventura.